È stata lunga perché l'ultima valenda ho giocata quasi dieci mesi fa, però mi sono trovato bene, ovviamente un po' la stanchezza da fine, comunque non avevo ancora fatto amichevoli partiti né niente, però sono contento di essere riuscito a finire tutta la partita. La vittoria è chiaramente un bel premio, non aver preso gol, aver difeso contro uno dei giocatori più alti alla fine del campionato, no? Sì, sì, è una vittoria importante, noi ci teniamo sempre a vincere e abbiamo la fortuna di fare un'altra partita più avanti, quindi è molto importante per il nostro percorso. Ti chiedo l'ultima, come ti senti e quali sono le aspettative da qui verso gennaio o magari verso il prossimo metro della stagione? Adesso mi sento sempre meglio, più mi alleno, più ho possibilità di giocare, meglio mi sento e il suo obiettivo è quello di cercare di dare il mio contributo anche in campionato e nelle partite che dobbiamo affrontare.